Oggi spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, vi voglio bene, seguitemi e iscrivetevi al mio canale, guardate che spettacolo, che profumo, guardate che belli, seguite il video, a dopo, ciao ragazzi! Buongiorno amici da Chef Giannino, sono col mio bastone portafortuna, stasera c'è un falco, il falco della notte! Sì, sì! Stasera volevo presentarvi una ricetta, spaghetti alla puttanesca, innanzitutto volevo presentare i miei portafortuna, guardate che bello, mi vogliono bene! Presentiamo gli ingredienti, abbiamo degli spaghetti, del peperoncino tagliato, tre spicchi d'aglio, delle acciughe, delle olive nere e verdi, dei capperi e dei pelati, partiamo con la ricetta, Nel frattempo l'acqua bolle, partiamo con la ricetta, olio, vi voglio bene ragazzi, siamo un po' abbondanti, olio di Chef Giannino, olio dell'abruzzo, vai! Abbiamo messo l'olio, a questo punto ci mettiamo due spicchi d'aglio interi, uno, due e uno schiacciato, ci mettiamo del bel peperoncino, mamma mia quanto sono buoni, i spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, accendiamo la fiamma, ok? Ci prendiamo adesso delle belle acciughette, mamma mia che profumo Chef Giannino ragazzi, mettiamo le nostre belle acciughette, guardate che belle ragazzi, uno spettacolo, vai! Un'altra, bello saporito eh Chef Giannino, vai! A questo punto ci prendiamo anche i capperi, e vai Chef Giannino, facciamo andare 4-5 minuti, che si deve sciogliere, formarsi la cremina, il peperoncino, l'aglio, i capperi, nel frattempo l'acqua bolle, ci aggiungiamo un pelino di sale, poco eh, poco sale nell'acqua, perché è già tutto bello salato, facciamo andare eh, seguite Chef Giannino ragazzi, facciamo sciogliere il tutto. Mamma mia che profumo, i cazzi, le acciughe, l'olio, l'aglio, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, a questo punto ci prendiamo i nostri pelati, fate attenzione quando li mettete eh, perché con l'olio caldo può schizzare dappertutto. Mi raccomando, dovete usare i pelati eh, non la salsa di pomodoro. Adesso abbassiamo un po', facciamo andare per 10 minuti eh, guardate che belli ragazzi, uno spettacolo, c'è che profumo, aspettate eh, adesso ci mettiamo un po' di pepe, mi raccomando, nella pasta poco sale, perché è già tutto saporito. Vai, facciamo andare così dai, 10 minuti, a dopo, vi voglio bene ragazzi. Mamma mia che profumo Chef Giannino, che condimento, spaghetti alla puttanesca, seguitemi fino alla fine, mettete un like, mettete un commento, dite che se ho sbagliato qualcosa, a questo punto possiamo togliere l'aglio, che ha già fatto il suo bel lavoro eh, ha dato il sapore eh, io lo tolgo, mamma mia che spettacolo, cappellino però non lo lascio dentro. A questo punto, che sta andando, l'acqua sta bollendo, ci prendiamo le nostre belle olive, verdi e olive nere, e dentro, vediamo colore. Vai, Chef Giannino, mamma mia, giriamo, facciamo andare eh, guardate che bello, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, se è uno spettacolo Chef Giannino. A dopo, bene ragazzi, il sughetto sta andando, a questo punto spaghetti, 3 etti e 50, dentro nell'acqua che bolle, con poco sale eh, vai. A dopo, che profumino, ci siamo ragazzi, guardate che bello, guardate come si è addensato bene, tutti i sapori, le olive, i capri, le acciughe, il peperoncino, l'aglio, guardate che bello, ci siamo con gli spaghetti, anzi, faccio un piccolo assaggio, un piccolo tostino di pane. Perfetto ragazzi, è perfetto. A questo punto, non ci resta che prendere i nostri bei spaghetti, che sono al dente, intanto mi sto gustando il sapore, dentro gli spaghetti, e voilà, di Chef Giannino, ci siamo, Chef Giannino, mamma mia che buoni, guardate il condimento, uno spettacolo, facciamo saltare un po', in padella ragazzi, guardate che belli, mamma mia che profumo ragazzi, che profumo, Chef Giannino ragazzi, che profumo buono, vai, guardate che belli ragazzi, guardate la cremina, guardate il condimento, uno spettacolo ragazzi. sono al dente, ci mettiamo adesso, un poco, proprio poco, un mestonino d'acqua, proprio poco poco, proprio un goccinetto, vai Chef Giannino, ci facciamo saltare ancora un po', vai, vai, mamma mia che profumo ragazzi, buonissimi, buonissimi Chef Giannino, guardate che belle le olive, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, ci siamo, a questo punto, piatto di portata, mettiamo un po' di colore, un po' di prezzemolo, mamma mia che bello Chef Giannino, a questo punto lo prendiamo, è giunta l'ora, è giunta l'ora ragazzi, mi voglio mangiare, prendiamo i nostri bei spaghetti, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, mamma mia che spettacolo ragazzi, guardate che belli, et voilà, viaggiamo, mamma mia Chef Giannino, che buono, vai Chef Giannino, spaghetti, ok, ci mettiamo un po' di condimento, guardate che belli ragazzi, che spettacolo Chef Giannino, olive, capperi, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, mamma mia che profumo, che profumo ragazzi, faccio l'olivetta, ci mettiamo una spolverata di prezzemolo, e ci mettiamo anche una fogliolina di prezzemolo, ragazzi, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, vi voglio bene, guardate che belli ragazzi, adesso non ci resta che fare un assaggio, mamma mia, buonissimi ragazzi, vediamo, ragazzi, non ho parole, non riva, vi voglio bene, ragazzi, spaghetti alla puttanesca di Chef Giannino, seguitemi, ciao a tutti, ciao a tutti,